La musica degli anni più belli con i disgiocchi originali che abbiamo mantenuto nel tempo con un ritorno infragante di questi ragazzi fantastici che portano avanti per la decima edizione questa manifestazione tutti, indistintamente, capitano a Mario Mazzaferro. Abbiamo preparato delle novità in quanto riguarda scenografie abbiamo cercato di arricchire una piazza già meravigliosa di suo abbiamo creato delle musiche particolarissime tutto nell'insieme per dare una gioia, una festa, una chiusura di un anno meraviglioso. Speriamo di riuscire nel nostro intento perché sai, il progetto è una cosa, la realizzazione non è un'altra. Le attività sono tutte già pronte per la manifestazione per accogliere un numero elevato di persone il tempo ci assista e noi pensiamo a tutto il resto. Speriamo di riuscire nel nostro intento